L'Assemblea, questo invece ce lo conferma, Conte ha detto che non entrerà nel governo Draghi personalmente? Sì, il Presidente lo ha sottolineato e mi sembra che lo abbia fatto con fermezza. Lui non entrerà all'interno del governo, però rimane presente nel percorso del Movimento 5 Stelle. Sarà il leader del Movimento 5 Stelle? Questo poi verrà deciso all'interno del Movimento, però lui affiancherà il Movimento ed è quello di cui ha bisogno il Movimento, ma devo dire anche il Paese. Ci fermiamo ancora per la pubblicità, poi Emanuela Perrone, però dobbiamo parlare di questo verbo affiancare, è vero? Sì. Pubblicità.